Questo governo è allo sbando, vanno sotto su un decreto importantissimo come il decreto sul terrorismo, manca il numero legale in aula per due volte, non c'è la maggioranza, i consiglieri, i senatori del Partito Democratico non si vedono, non vengono in aula e soprattutto non votano e di conseguenza ci ritroviamo con un provvedimento importantissimo come questo a non avere delle risposte. Nei prossimi giorni andremo avanti a fare opposizione, a un governo che fa delle proposte, le racconta al Paese, racconta delle fregnacce al Paese e poi quando è il momento importante in aula non si vede e soprattutto fa delle proposte ridicole. Pensate solamente al fatto che prevede o vorrebbe o voleva prevedere una pena che va dai 6 ai 12 anni per quei terroristi che detengono materiale radiattivo per fare delle bombe nucleari. 6 ai 12 anni, ci sono in Italia delle pene che per molto meno si prendono reati, si prendono pene maggiori. Noi continuiamo ad andare avanti a dire agli italiani di non fermarsi alle parole di Renzi, di non fermarsi alle promesse, di non fermarsi ai sorrisini e ai selfie di questo Presidente del Consiglio. Guardate che cosa c'è dietro, guardate il lavoro parlamentare che c'è dietro e vedrete che dietro al PD e dietro a questa maggioranza c'è il nulla.